Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna. Buon lunedì innanzitutto, però forse questa non è una buona notizia che sia lunedì, ma la buona notizia c'è. Era nell'aria che Look Fantastic avrebbe fatto degli sconti, dei saldi estivi e la campagna si chiama The Big Beauty Takeover. Sostanzialmente c'è sul sito, c'è fino a un 40% di sconto e un 15% è, fino a un 15% extra, usando il mio codice tutto maiuscolo, tutto uguaglio, Gattaluna, il solito. Ve lo scrivo comunque e vi lascio anche il link alla pagina della scontistica. Sia su Instagram che su YouTube farò anche un po' un elenco delle offerte flash. Tutte queste offerte vanno da lunedì 10, cioè da oggi, già sono partite, fino a domenica 16 e, scusate, guardo per una di sciocchezze, giorno per giorno ci sono delle, c'è una scontistica su un brand in particolare. Sembra complicato ma dopo vi lascio tutto scritto. Attenzione perché se c'è qualcosa che vi interessa, dato che la scontistica è molto interessante, rischiate di non trovarla e molte cose magari vanno esaurite. Quindi qui c'è il link, da qualche parte metto il link all'elenco delle cose in sconto. Dicevo lo sconto può andare fino al 40% con in aggiunta fino a un 15% della scontistica legata al mio codice Gattaluna. Fate buoni affari.